no adesso sicuramente non ovviamente non vedrete quella di sky ma un template fatto apposta era questa qua vediamo online item chiaramente lo chiamiamo prospect ok dicevo il target mi raccomando ecco questa è una schiena probabilmente questa non è neanche erogata in programmatico però capite bene che è la pian vista la dsp al secolo demand side platform è la piattaforma di domanda cioè la piattaforma che presiede all'acquisto dello spazio inter la ssp supply side platform anche si viene mappato anche quel tipo di comportamento quando si mette in full screen un video accipicchiasi accipicchiasi e la piattaforma che presiede all'acquisto